Dopo l'edizione del 2019 che ha visto la partecipazione di tante persone, torna con un doppio appuntamento la Festa dei Popoli, una manifestazione promossa dall'Ufficio Migrantes Diocesano in collaborazione con l'Associazione Caritativa Diocesana Giustizia e Pace nell'ambito dell'iniziativa Impronte Femminili dell'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Fano, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e il contributo di numerose associazioni, realtà diocesane e comunità straniere del territorio L'obiettivo dell'iniziativa, lo dice il nome stesso, la Festa dei Popoli è quello di creare un'occasione di incontro di incontro tra le varie etnie, gruppi linguistici presenti sul nostro territorio e ovviamente noi italiani e questo per crescere sempre più in una cultura dell'incontro, per che ci sia amicizia, per che ci sia collaborazione e bisogna conoscersi. L'evento ad ingresso gratuito partirà sabato 11 alle 18.30 all'interno della Chiesa del Gonfalone con la presentazione del libro Siamo in Guerra, l'anno che per poterci curare non andammo da nessuna parte della dottoressa Fatima Farina. Il programma poi proseguirà nella giornata di domenica 12 giugno con diverse iniziative e attività a partire dalle 16.45 all'Anfiteatro Rastat a Sassonia di Fano. Pomeriggio avremo un laboratorio multiculturale per i bambini dai 6 ai 12 anni che lavoreranno insieme per preparare una danza, una danza che verrà proposta poi alle persone che convengono alla festa nel mentre gli adulti potranno avvicinarsi, conoscere, approfondire le varie etnie presenti attraverso questa iniziativa che abbiamo chiamato Mi Metto Nei Tuoi Panni. Il momento centrale sarà l'ascolto di testimonianze. Il tema è la donna e le guerre, allargando e accendendo i riflettori su tanti conflitti e situazioni di violenza che normalmente vengono dimenticati. Noi vogliamo partire da una testimonianza che riguarda la lotta di liberazione algerina dal colonialismo e poi la testimonianza di una ragazza afogana, di una ragazza che ha vissuto il lager libici per venire da noi, una famiglia della Palestina per accendere i riflettori appunto su quello che succede nella striscia di case e poi ovviamente dopo ci sono gli stand gastronomici e queste danze e canti proposte dai gruppi etnici presenti alla festa. Assessore, un evento che rientra nell'ambito di impronte femminili. Esatto, impronte femminili quest'anno è andata al tema del multiculturalismo ed è stato normale l'incontro con Don Sandro, il gruppo Migrantes e tutte le comunità di Fano impegnate e desiderose di mettere in piedi un appuntamento di festa di cui sicuramente c'è tanto bisogno. Grazie a tutti.